ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video eccoci qua come ogni tanto capita con un'altra puntatona delle reaction ai vostri video cioè le vostre collezioni di orologi la simpatica raccolta che portate avanti nel tempo che vi dà tante soddisfazioni cioè fanno loro l'orologio fa il suo e quindi voi siete contentissimi perché sono molto molto belli ora come partecipare lo sapete dai un bel video in orizzontale 7 minuti 8 al massimo continuate a mandarmene da 11 io finché riesco poi dopo un po mi rompo e non li pubblico e poi li inviate via me qua come sovraimpressione ora mi occorre fare un piccolo uso privato del mezzo pubblico che poi non è pubblico perché è mio quindi allora il 22 dicembre è oggi è il compleanno di biaggio quindi io e il tuo figlio giuseppe ti facciamo tanti tanti auguri è bravo biaggio chissà che che fortuna hai avuto nella vita fare il compleanno due giorni prima del natale deve aver avuto un'infanzia piena di traumi perché un regalo solo hai tanto ormai ci siete uno va uno vale per due no e mi dispiace biaggio ma comunque auguri da me e dal tuo figlio ora anche oggi va bene siamo ancora sotto le feste no perché 22 quindi ci vuole un po di fatto anche questa festa 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 primo video la barra spaziatrice è sempre a suo posto non ci ha abbandonato perché non ci abbandona lei e noi iniziamo ciao davide ciao stefano da vicenza ho 27 anni e sono qui per mostrarvi la mia collezione di orologi partiamo dal mio primo orologio questo daniel wellington al quarzo a batteria che ho acquistato come primo orologio che dire un orologio da centro commerciale che però ha fatto il suo in quanto l'ho utilizzato per abituare orologio da centro commerciale che ha fatto il suo ti dirò di più per me è da profumeria non è nemmeno da centro commerciale da profumeria è questo orologio qua va veramente ora è il mio polso ad avere qualcosa molto fino molto comodo e ha fatto il suo ha fatto il suo ora non l'utilizzo più dopodiché ho fatto il mio primo acquisto in orologio automatico questo orient sun and moon inizialmente ero intenzionato a prendermi un orient bambino però ho visto questo e diciamo che è stato un acquisto un po' impulsivo però comunque sono contento di averlo acquistato l'ho utilizzato parecchio lo utilizzo ancora mi piace dire la verità che non ti convince dopodiché ho acquistato un Seiko 5 Sport cos'è? ma non mi aveva convinto pienamente e quindi l'ho messo in vendita su subito e sono stato contattato da un ragazzo che mi ha proposto uno scambio per questo Bulova 15 Pilot si mi piace questo bravo un orologio che mi piace molto mi piace un sacco la leggibilità ora il cinturino suo però d'estate lo utilizzo con un cinturino nato bravo veramente bello utilizzo la seconda chiara come funzione GMT quindi sulla seconda chiara ho il fuso orale del Messico perché a gennaio ci andrò e quindi utilizzo questa insomma come funzione GMT e la trovo molto molto leggibile eh sì bravo dopodiché mi serviva un orologio per palestra un cronografo allora ho acquistato questo Seiko cronograf solare al quale ho cambiato il bracciale per mettere questo cinturino molto comodo lo utilizzo soprattutto in palestra per ottenere i tempi di recupero eh sì e fa il suo diciamo fa il suo dai fa il suo dopodiché ho acquistato un diver il mio primo diver bellino bravo che è questo Mid Ocean Star 200C in colorazione blu veramente veramente bello si sente tanto la differenza rispetto agli altri in quanto entriamo in una fascia di prezzo eh certo un po' più alta e che dire un orologio fantastico il bracciale con la micro regolazione è veramente comodo l'ho acquistato di secondo polso però senza grandi segni di usura e molto molto contento di questo acquisto dopodiché sono andato ah fermi tutti non mi sono ricordato che non vi ho fatto vedere l'orologio del giorno ah e oggi l'orologio del giorno è questo bellissimo Longino Ultronic 35 mm di diametro cassa calibro ESA 6332 se non sbaglio cioè praticamente quel calibro Aldi Apason che facevano il consorzio ESA per poi essere incassato da tutti i marchi svizzeri quasi tutti Aldi Apason c'è la batteria dentro però è un bello orologio l'ho trovato come si suol dire fondo di magazzino da un amico del canale che ha aperto i cassetti della gioielleria a suo tempo eccolo qua trovato bello Ultronic mo riprendiamo eh scusate ma mi ero dimenticato per un orologio un po' più elegante quanto inserire un dress watch ho comprato questo Tudor 1926 e la luce adesso non fa non rende giustizia però in questa colorazione bianco con gli indici opalin è veramente fantastico è molto molto bello molto molto bello lo utilizzo nelle situazioni un po' più eleganti molto semplice e anche il bracciale veramente mi piace veramente tanto ce l'avevo anch'io ce l'avevo dopodiché non volevo non era nei miei piani acquistarlo ma all'asta ho visto ho vinto questo Trematic sempre un diver fermi eh eh l'ho pagato relativamente poco monta un Sellita SW200 ha la allora ecco qua Trematic allora lo dico questo marchio qua ce l'aveva in concessione anche Pasquale Domenici da dove io vado spesso e quindi io ne avevo anche presi due da portare a casa per recensire poi non li ho recensiti li ho restituiti perché perché lo vedete chiaramente chiaramente anche qua in questa foto a ore 12 il dot sulla ghiera è fuori centro beh io ne avevo presi due e in entrambi era fuori centro proprio fuori centro poi non mi convinceva il fatto del quadrante che è plasticoso è rugoso ma è plasticoso quindi c'era già quel punto lì che non mi convinceva poi cos'è che non mi convinceva il vetro minerale con trattamento zaffero che minchia vuol dire trattamento zaffero vabbè era già un punto debole da portare avanti poi ho visto il quadrante così plasticoso il dot della ghiera su tutti fuori centro poi a guardarlo da lontano vedevo anche delle cose che non mi sembrava in bolla l'orologio il 6 mi sembra storto ecco se voi guardate anche qua il 6 mi sembra storto saranno quelle righe del quadrante che me lo fanno sembrare così ma io ne ho presi due e su due mi sembrava così e li ho restituiti gli orologi e non ho fatto una recessione hai capito? a volte è così la storia il dial con questo particolare effetto che ricorda il fondale del mare sembra plastica la vedi? monta il illuminore anche sulla ghiera quindi anche tutti questi indici della ghiera al buio si illuminano meno male è un orologio che mi dà qualche soddisfazione dà soddisfazione l'ho utilizzato anche questo abbastanza però comunque sono abbastanza contento insomma l'ho pagato molto meno del prezzilistino quindi è stato più un acquisto in quel senso magari lo venderò magari no però per ora lo tengo vedo che sei convinto e dopodiché si passa al mio ultimo acquisto nonché il più costoso questo pudor black bay heritage completamente nero in pvd è un orologio forse uno dei miei grail watch ce l'hai mi piace un sacco lo uso ora come ora come daily watch è di una qualità pazzesca ho fatto l'ho fatto è del 2019 l'ho preso anche questo di secondo polso l'ho fatto non revisionare ma provare a capire insomma se aveva qualcosa che non andava ha uno scarto di un secondo al giorno quindi veramente preciso e sono follemente innamorato di questo orologio io mi vesto soprattutto di nero giornalmente quindi questo ci sta bene benissimo bene benissimo e che dire niente con questo finisce la mia collezione peccato ti ringrazio per tutto quello che porti sul canale e ciao niente nemmeno un ciao e va bene va bene tagliato così niente cosa ti vuoi che ti dico eh bella collezioncina hai fatto bene a prendere il Bulova Pilot lì scambiarlo con il Seco 5 perché mi piace il Bulova Pilot l'ho anche recensito è un bello orologio 42 mm un bel pilot come deve essere hai fatto un bello acchiappo poi il Trematic se ti piace tienilo e ti ho fatto vedere quello che secondo me non va e l'ultimo il Tudor cosa gli vuoi dire l'hai scelto tutto nero perché c'è i tuoi motivi bravo perché a me non mi convince tanto tutto nero a parte lo Zenith DeFi Skyline in ceramica nera old ceramica bracciale e cassa che l'ho provato l'altro giorno in gioielleria quello lì mi convince assai anche se è nero mamma mia perché proprio di ceramica c'ha le striature leggerissimamente le venature c'hanno tanta roba quello del DeFi lì peccato che costa 16.100 euro quindi l'ho riappoggiato lì e ho detto arrivederci niente bella collezione il Tudor diciamo che è il Greywatch di solito il Greywatch è uno è ipotetico è virtuale cioè quell'orologio al quale non puoi aspirare è quello nel momento in cui lo prendi non diventa più il Greywatch ce l'hai capito è uno Simor si dice vabbè non lo so potreste anche l'exit watch si usa dire l'exit watch cioè compra questo e poi smetto no eh si smetto compra questo poi smetto di bere è uguale ma cosa smetti ma cosa bevi bevi che compra compra orologi orologi no prossimo video ciao Davide ciao eccomi Paolo da Napoli seconda puntata dopo gli oro seconda puntata intanto guardiamo la tovaglietta la saga delle tovaglie va avanti qua abbiamo tutti gli omini che non so cosa sono con un occhio solo che fanno sport questo passa al convento più tanti attrezzini cinesi lì per fare le regolazioni le la piccola manutenzione ordinaria ai segnatempo più c'è la MSC Seaside costa crociera la nave non so avrà che fare col tuo lavoro non lo so andiamo avanti oggi del cuore oggi facciamo una carrellata veloce su un altro gruppo di orologi della mia collezione vai questi sono tutti quanti acquisti effettuati o dopo aver visto recensioni o acquisti compulsivi recensioni soprattutto tue acquisti compulsivi iniziamo uno l'altro bravo bravo già lo conosciamo calibro 888 certificato COSC orologio bello portabilissimo tempo giù però ti racconto ti piace tanto lo uso molto va bene l'ho conosciuto grazie a te ah sì ottimo acquisto abbiamo parlato a lungo forse si ricordi anche sul tuo canale instagram che mi consigliassi su quale versione prendere appena usci telegram magari a seguire l'orologio che mi sono regalato comprato dopo un intervento chirurgico ha fatto bene uscito dall'ospedale appena ho cominciato a essere nuovamente autonomo Hamilton anche automatico 42 mm chiera ceramica che gli vuoi dire mi piacque molto visto dopo la recensione e me lo sono regalato come ricordo post operatorio hai fatto bene via si vive una volta sola mi mancava un GMT dovevo partire per il Giappone bianco eh dovevo fare alcuni viaggi ho scelto questo eh ma si legge bianco così calibro sv300 top grade sv330 sarà un GMT è veramente un bello orologio precisissimo non è fotogenico come dico io non è instagrammabile in video e in foto è bruttino anche se è sottilissimo magari è colpa del quadrato bianco invece al polso e da vicino è molto molto bello per un periodo di tempo l'avevo messo anche in vendita ho cambiato idea e me la tengo con soddisfazione bravo con soddisfazione bello mi do doppia corona multiforce acquisto compulsivo così come si dice visto e piaciuto visto e preso mi piaceva l'idea della doppia corona bell'effetto a pulso pulso 17 e mezzo il mio e che gli vuoi dire questo è piaciuto visto e preso non vi stai piaciuto a seguire colpa tua questo qua è bello cazzo quasi qua oddio che è il top tieni vista la tua recensione immediatamente dopo ordinato e buttalo via l'ho usato tutta l'estate ora è già un po' che dovrebbero uscire i bracciali dedicati al vulcane skin dive da 38 mm è già un po' che siamo in attesa quindi il momento in cui arriveranno i possessori come te che vogliono dare un volto nuovo all'orologio si ordina il bracciale a parte che non so quanto costa vabbè se l'orologio è poco più di 1000 bracciale anche lì con un prezzo di favore magari però gli dai il volto nuovo all'orologio dopo averlo tenuto per un annetto con il cinturino bracciale ma speriamo che sia bello penso di sì con molta soddisfazione veramente bello misura perfetta per il mio polso eh certo sto attendendo con ansia che venga commercializzato il bracciale visto perché effettivamente questi cinturini non danno il meglio di loro ma no ma com'ero sono belli smorbidi sono non ti piacciono più ma io invece come piace più è bello lo devo indossare con molto piacere PRX verde ah va bene ci sta ci sta Powermatic 80 e la via così me l'aspettavo un po' più preciso ehi voi cosa fai prima volta che lo senti dire fa bene il suo lavoro quanto scarti se ce lo dici a proposito il regalo della mia fidanzata poi diventata moglie mamma mia primo regalo di mia moglie quindi azzeccata subito sempre Tissot il T-Touch a batteria come ciccione come fa mi piace lo uso ci tengo molto e beh e a proposito di Tissot non poteva mancare Dejust sempre colpa tua ti ricordi gli orologi dimenticati se hai fatto la puntata certificato cost economico bracciale molto molto bello comodissimo molto molto bello bravo basta finita lì anche questo lo uso abbastanza eh sì peccato per la scarsa visibilità serale notturna infatti lo uso più di mattina di mattina o di pomeriggio o di pomeriggio è un orologio diurno si vede poco sul tuo canale eppure è un orologio molto ma canzi questi porta orologi regolabili con la vite non l'avevo mai visti che scimmia che mi viene adesso cioè si regola praticamente l'estensione così puoi farti l'orologio dritto come ti parla potrebbe anche far comodo durante le recensioni a me sta cosa qua dove l'hai presa c'è una molla non è una vite è una molla ma che bello però lo potrei costruire da solo con la vite senza fine va bene dai bello con calibro affascinante l'Eberhard 8 giorni l'Aqueline 8 giorni di riserva di carica a molla un bello chiuso questo l'ho comprato alla mia prima promozione al lavoro bravo nell'epoca lo pagai anche tanto se ricordo bene e costano gli Eberhard ho revisionato di recente dopo 20 anni forse un po' tardi andati in Eberhard revisione cara un poco non in linea rispetto ad altre aziende cara non mi hanno voluto fare la lucidatura cassa perché a loro dire ancora non era opportuno togliere materiale ci sta come vedi molto bello il colore altro Eberhard traversetolo regalo di un amico traversetolo eh sì orologio grande imponente ma di presenza ma a pulso però bianco ha sempre la sua figura bianco ottima visibilità leggibilità ottima vestibilità para pozi pozi pa ti faccio vedere poi un paio di orologi con il quale mi sono divertito ebbe questo lo conosci bene c'è il ProMaster NY0040 moddato ho cambiato le sfere ho messo le sfere simile radio ho cambiato la ghiera non la vedo diversa bracciale il suo originale è cambiato è cambiato la claps 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 con qualcosa di più consistente clasp ah naturalmente vitro zaffiro doppia cupola ma ha fatto modificone bravo contento te contenti tutti moddato il citizen andava moddato anche il Seiko certo si può vivere senza Seiko Sport ho cambiato la corona e cos'è questa mettendo una corona loggata dove hai preso ghiera ghiera ceramica e anche qui vetro zaffero però piatto piatto non so se riesci a vedere però dal video mettendo il vetro piatto e non il doppio cupola si è creata rispetto alla ghiera un piccolo scalino ganso ci piace non escludo che prima o poi ricambierò no lasciano così è particolare da ultimo sempre moddato post hoc full lume comandischi comandischi e questo è lo difficile perché oltre a cambiare la ghiera che però è bidirezionale mettendola in ceramica sono riuscito con molta fatica a cambiare il vetro che è rimasto sempre in Plexiglas però è leggermente più bombato molto più bombato e quindi fa un effetto di visibilità migliore soprattutto la luce del sole e per questa seconda puntata ti saluto grazie sempre per lo spazio e un abbraccio forte un abbraccione a te ciao 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 ecco a cosa servono tutti quegli strumentini che abbiamo visto in sottofondo perché fa le mode the king of the mode il re delle modifiche chiaramente le modifiche come anche io farei le fai sugli orologi economici sul sito sempre master sul 6.5 e sul colmandischi chiaro che non ti metti a modificare il mido ocean star o il tssu prx no quando l'orologio ha un certo valore in su è meglio lasciarlo originale no anche se eticamente parlando anche quelli lì economici andrebbero lasciati normali però puoi sempre tornare indietro credo cioè ripristinare la condizione iniziale e poi c'è anche da dire che invece potresti anche trovare un giorno da venderli così con i suoi pezzi originali a parte perché ci sono tanti che amano le modifiche no e magari una ghieretta in ceramica in vetro zaffero gli fa strabuzzare un po' il cervelletto e dice si lo voglio quindi ci sta ci sta un po' il divertimento va bene così non te ne faccio certo una colpa niente dai tutti orologi belli esposizione decente la seconda volta che mandi il video la prima però chiaramente non me lo ricordo non posso ricordarmi tutti abbi pazienza ma comunque sei promosso dai bravo modificatore seriale prossimo video ciao davide ciao fabbio chiamo dalla provincia di frosinone frosinone grazie per quello che fai un saluto agli appassionati passo subito a mostrarti la mia accozzaglia di orologi non è una raccolta non è una collezione ma è una accozzaglia accozzaglia anni 90 swatch anni 90 due crono e un scala pulsometrica simpatici ma io vuoi dire simpatici un tesso un quarzo non mi piace un orologio di forma che possiedo è un regalo dei colleghi non mi piace l'orologio che ha fatto scattare la passione questo è bello 6,5 ha regalato da mio padre negli anni 80 l'ho portato per tanti anni che indici che c'è sono veramente mio compagno di tante compagno di vita compagno di vita poi ho comprato altri 6,5 venduti regalati questo è quello che ho ottenuto come tutti i 6 quadrante veramente particolare non si può dire niente economici ma bellini molto bello bravo primi stipendi Eberald frecce di ricolori 90 anni 90 le mani a 5100 acciaio oro l'avevo acquistato con il cinturino in pelle e poi gli ho subito montato gli ho subito acquistato questo bracciale che poi gli ho dato qualche botta ma gli orologi vanno vissuti vanno particolare questo orologio ma indossati non vanno in cassetta mio padre si è appassionato anche lui di orologi e ha acquistato questo lusero chà acciaio oro questo è un royal airtop penso che monti un movimento ETA 7753 e poi ecco con mio padre c'era meglio il mio meglio il tuo e quindi c'era questa simpatica gara che lui chiaramente ha vinto perché poi lui ha acquistato questo zenith prime top questo è un placato oro si 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 placato però è bollino carica manuale eccolo lì movimento spettacolo ecco io non capisco cioè questo qua praticamente è il primo automatico che è modificato privato della massa oscillante e che diventa il prime no prime si dice penso di sì cioè il calibro a 36.000 alternanze cronografico manuale io non capisco chi dice che è un obrobrio che è un non senso che è un snaturare il calibro ma io non ci vedo proprio niente di strano cioè un calibro automatico gli togli la massa oscillante lo modifichi per farlo funzionare manualmente eccolo lì cosa c'è che non va per me ha lo stesso valore di quell'altro spettacolare e poi il bello di questo orologio è ascoltare il battito le 36.000 alternanze battito animale altro orologio acquistato da mio padre Polpicò Polpicò un telemark l'ha regalato a mio figlio è un ricordo questo è un 38 millimetri sempre penso che anche questo sia ciaio odio tutti gli orologi che mi hai fatto vedere finora sarà un po' distantio hanno un design proprio da vecchio cioè anni 90 oppure veramente super classico formale che è più classico non si può ma inteso nel senso di vecchio di vecchio a me piacciono gli orologi classici formali sobri semplici essenziali ma qua finora non ho visto un orologio solo che rientra nei miei gusti magari forse il prime ma ne va nemmeno perché è un po' vecchio anche quello lì placato questo c'è ancora il cintorino originale e anche la fibbia chiaramente Polpicò un classico un classico io dovevo condettarmi e compravo questi crono questo è un rubens ho fatto qualche ricerca penso che sia un incassatore è un valigio 7750 questo è un orologio ecco 7750 ecco l'hai detto ora anche quello di prima che aveva i contatori messi così hai detto 7750 ti sei lanciato nella era un 7750 anche quell'altro perché i contatori messi così ore 12 6 e 9 è il 7750 i 7753 ce li ha a ore 3 9 e 6 e spesso che l'ora 6 viene tolto per lasciarlo Bcompax che ho trovato in un mercatino era molto mal ridotto c'era una ghiera posticcia le sfere andavano a spasso sul quadrante così l'ho comprato per pochi euro salvare per salvarlo chi l'ha venduto non sapesse l'effettivo valore poi gli ho messo un vetro nuovo bracciale bravo veramente questo è un bracciale pieno è molto comodo fatto bene dai ricordo che che marca sia comunque è un bracciale veramente simpatico che sta molto bene al polso altro orologio crono braille minchia anche questo monta un 77-50 è un orologio un po' perché è alto mamma mia penso 16-17 mm era molto più carino con il suo cinturino ma ora questi qua fanno il design vabbè ci sono anche a chi piace per l'amor del cielo quindi ti sforzi anche di fare un design in particolare ma guardate qua praticamente il cerchio centrale che è sul quadrante quello lì sarebbe l'orologio sarebbe perché il calibro il limite del calibro è dato da quei tre sottocontatori poi c'è il rio e quello lì sarebbe l'orologio poi c'è tutta quella parte esterna che fa tutto quadrante fino alla lunetta sottilissima che è in più è messo lì solo per fare il diametro dell'orologio che sarà 45 quanto sarà questo orologio qua guardate tutto quadrante così non si può vedere cioè per i miei gusti poi sicuramente ci sarà chi dice bellissimo sembra Star Trek ma fate un po' come vi pare ma a me mi pare una mezza cioffecca non lo non si trova più quindi mi dovrò rivolgere un artigiano altrimenti ho conditato questi cinturini commerciali va bene passa via dai dove crono passiamo a momento diver ooooh SKX o SKX a cui ho messo un strap coat hai messo un strap coat bravo ho fatto un bel lavoro costa non c'è bisogno di presentazioni non c'è bisogno scuba dude come questo giallo giallo è un vostro anfibbia con se vede che è stato al mare perché è virato dall'arancio è passato al giallo quindi è un orologio che porta prettamente al mare il cinturino era giallo il top di driver cos'è cos'è penso che il top me lo trai senz'altro top delle stelle 1 2 3 4 5 6 stelle 2 rolex acquistato nel 2018 eh bravo poi altro orologio altro ebrad ho già visto un bracciale che somiglia questo è un 8 giorni una carica che lo carichi la domenica e lo ricarichi la domenica successiva ah fa così c'è una riserva di carica 8 giorni per quello oh non funzionava ho acquistato il secondo polso l'ho mandato a casa madre e l'hanno sistemato adesso è perfetto bravo questo questo è un analogio che sicuramente ti piacerà è Ultroni Ultroni è questo Ultroni movimento Esa era sempre del mio padre bracciale integrato anni 80 74 non funzionava la vedo dura che sia degli anni 80 perché gli Esa li hanno fatti da fine anni 60 fino agli anni all'inizio anni 70 perché poi è arrivato il quarzo e il diapason non si arriva più a niente anzi era una rottura quindi anni 80 l'avevo difficile a meno che è logico che questo qua era un fondo di magazzino se arrivavo lì nel 2002 lo compravo non posso dire era un orologio del 2002 no era un fondo di magazzino nel 2002 questo qua se l'ha preso negli anni 80 poteva essere un fondo di magazzino già negli anni 80 hai capito ma probabilmente se guardi basterebbe guardare anche i numeri sul fondello esterno che già negli anni 70 li mettevano per capire un po' dove siamo a grandi linee come linea temporale gli ho comprato una meccanica nuova gli ho montato un motore nuovo e gli ho dato una nuova vita ah hai cambiato completamente il calibro cioè quindi praticamente se non funziona uno cambia il calibro ci mette quell'altro poi vedi a volte rimaniamo no lì cerchiamo di fare i romantici da dire va bene bisogna prendere gli orologi vintage perché poi si possono riparare vanno avanti tutta la vita gli orologi moderni costa meno cambiargli il calibro che metterci mano è uguale è uguale dappertutto dai se un orologio lo compri a vintage che costa 50-100 euro e ti costa di più la revisione che andare a comprare un calibrino e rimettercelo dentro no per assurdo quindi anche un po' un po' meno romantici dovremmo essere secondo me quindi l'hai cambiato uno degli ultimi acquisti speed timer Seiko a carica solare per avere diciamo così pacchetto completo per avere un assortimento assortimento questo è comodissimo perché quando togli un orologio questo è sempre pronto questo ha una riserva di carica di sei mesi e quindi quando lo vai a prendere dal cassetto stai pur certo che non devi far nulla lo indossi e via anche questo non voglio sforare oltre magari prossimo prossimo video parleremo di altri orologi va bene grazie a te non vorrei sforare bravo bravo lo pubblichiamo grazie e alla prossima lo pubblichiamo proprio perché sei stato rispettoso dei tempi e non hai voluto sforare niente cosa vuoi che ti dico c'è quel pezzone lì che è il submariner tanti altri belli orologi poi dici che lo speed timer al quarzo lì della 6 con il cronografo l'hai preso perché così è sempre pronto ma guarda che l'orologio che hai presentato prima cioè l'ultronic che ha batteria anche lui te lo metti lì e lui lo prendi è sempre pronto sull'attenti ecco non so quanto possa reggere il tempo come un quarzo così moderno però è sempre pronto però io quando lo ripongo questo estrago la corona lo metto lì estrago la corona in modo che non giri in modo da preservare la batteria hai capito perché se lo faccio girare mentre lì poi non lo indosso per due mesi la batteria muore la batteria è in fingarda e mi si schiocca tutto l'acido in giro hai capito già che queste qua sono batterie particolari mi sembra quindi batteria fingarda prossimo video ciao Davide ciao Ivan da Savona Ivan ti ringrazio innanzitutto per il tuo canale e per i tuoi video soprattutto per questa rubrica grazie mi piace molto avere la possibilità di vedere come altri appassionati si interfacciano a questa passione tramite le loro collezioni io oggi ti mostro la mia piccola collezione di tre orologi della Seiko mi sono molto appassionato questo diciamo che è stato il mio primo orologio un po' bello della Seiko 5 Sport ed è quello che mi ha fatto venire la scimmia questo orologio secondo me molto carino penso che a me non sono mai piaciuti gli orologi fino a che non ho deciso di comprare questo e mi sono reso conto che è una cosa un po' ben fatta dà tutto un altro effetto al polso io avevo sempre usato dei ciofeconi da paura e gli orologi non mi erano mai piaciuti si va bene hai sempre usato dei ciofeconi da paura un orologio ben fatto ma ci siamo anche resi conto che con pochi soldi tra virgolette perché stiamo sempre parlando di centinaia di euro ci si può permettere un orologio ben fatto da portare tutti i giorni che dà soddisfazione che fa il suo ok quindi è lì il punto uno magari pensa devo spendere migliaia di euro per un orologio ben fatto allora no non mi appassiono agli orologi sbagliato appassionarsi agli orologi significa anche sapere indossare questi orologi economici da 200 300 400 500 50 euro e poi la passione prosegue anche nell'informarsi nell'informarsi tramite youtube tramite i libri tramite le trasmissioni le riviste tramite gli eventi è tutto un pacchetto nel quale poi non è che occorre spendere i soldi per forza in un orologio c'è tutto un contorno che ti permette di starci dentro e essere informato e scambiarti opinioni e poi da cosa nasce cosa no questo invece è il primo orologio un po' serio che ho preso e mi ha fatto subito appassionare bene questo qua non posso fare altro che consigliarlo come entry level molto carino caffa 42 mm impermeabile 100 metri insomma lo conoscono tutti molto bello promosso passo poi a quello che io considero il mio dress watch ovvero questo Seiko Presage bello che io ritengo veramente spettacolare il quadrante è veramente bellissimo con questo nero che tende al verde con questo pattern che non so se riesco a mostrare bene ma è veramente bellissimo mi piacciono un sacco diciamo le lancette gli indici dorati si legge anche bene qua c'è movimento a vista eh vabbè che forse era evitabile ma si bello chiuso impermeabile 50 metri che per me è il minimo per star tranquilli con la pioggia con l'umidità e tutto cinturino è il suo originale di pelle con la clasp Seiko e qua mi sorge la prima domanda ti dico io ho scelto di prendere questo ne sono veramente contento inizialmente ero indeciso se prendere questa referenza qua o se prendere se prendere un'altra se prendere l'SRPG 23J1 che di cui se riesco ti metto in sovraimpressione una foto e mi piacevano entrambi quando ho provato di persona il secondo ho notato che ha un bracciale veramente brutto se devo dire la verità con soprattutto una claspa a farfalla di lamierino pessima orribile veramente mi dispiace dirlo ma è così e non so cosa ne pensi te io credo che sia assurdo non ho idea dei corsi di produzione ma ritengo assurdo che degli oro si va bene anch'io la penso come te più o meno poi non è che ci si deve fermare al primo punto debole se a uno gli piace l'orologio va avanti anche con la claspa così sottile fa specie però perché per esempio in questo presage che hai te col centurino la deployana è veramente di qualità la vedi che bella spessa lucida fatta bene e per contro quell'altro invece non è anche lì ti do ragione orologi da 4-500 euro comunque abbiano una clasp di lamierino così cioè non so quanto gli costerebbe renderla più bella e penso che la maggior parte delle persone pagherebbe anche la differenza ma no costa uguale dimmi cosa ne pensi si non c'è sovrapprezzo poi io infine ti mostro il mio orologio migliore secondo me è questo qua questo King Seiko Glycine top questo l'ho fortemente voluto lo adoro non so se il video gli renderà giustizia a questo quadrante questo quadrante appunto dovrebbe ricordare il Glycine è un violetto quasi rosa che tende al bianco io lo adoro è bello è veramente secondo me spettacolare le finiture della cassa sono bellissime un orologio molto particolare che richiama appunto il secondo modello mi sembra della King Seiko molto giapponese questo bracciale per me è bellissimo di una comodità assurda è veramente ottimo questo inoltre veniva fornito essendo un'edizione limitata qua si può vedere dal fondello che questa è non so se definire un'edizione limitata comunque un'edizione riservata alle boutique alle boutique no questo veniva fornito con anche la possibilità di mettere questo bracciale cioè questo cinturino in pelle che non credo che lo farò perché di fatto il bracciale è bellissimo però è molto molto interessante col rilascio rapido non so magari questo lo userò per qualche cos'altro questo mi fa pensare sai quanti orologi ho io che arrivano con la scatola con il secondo o il terzo cinturino ad esempio mi viene in mente lo spirit il login spirit che ho ho la scatola quella mi sembra prestige si chiama che dietro c'è il suo nato e il suo cinturino in pelle mai usati non l'ho mai tirato fuori sono lì nella scatola nel mobile nascosta lassù e uso sempre il bracciale fa piacere però anche lì siccome anche lo spirit ce lo sgancio rapido dovrei dovrei provare a fare qualche cambiamento qualche volta mettermi lì e fare lo swap ora dicevo bello questo king seiko qua mi piace assai però c'è sempre quel punticino dei finali che lasciano un decimo di millimetro di luce rispetto alle hanse non lo vedi che è fatto apposta però va anche compreso perché questo qua mi sembra che è quello da 37 sono usciti gli ultimi ho avuto per le mani gli ultimi quelli da 39 mi sembra o 38 e 5 ho fatto diverse misure che non hanno i finali così adesi alla cassa non ce l'hanno fatti in maniera differente e non mi piacevano all'inizio poi dopo una volta che l'ho avuti per le mani è veramente più bello quel bracciale lì che non che non va a seguire la cassa quel finale lì veramente bello altro progetto comunque tornando all'orologio questo qua come dicevo è riservato alle boutique l'ho l'ho voluto l'ho voluto e me lo sono andato a prendere a Milano bravo ho avuto la fortuna di riuscire a fare questa cosa di prenderlo qua c'è la la sua garanzia di prenderlo il giorno del mio compleanno me lo sono regalato per il compleanno sono contentissimo di esserci riuscito vabbè e niente questi sono i miei orologi questo qua è sicuramente migliore che ho per il momento ti lascio con con una domanda ah visto che in futuro penso che vorrei prendere un gran seico sto cercando sto cercando sto iniziando di informarmi sicuramente devo devo trovare la soluzione migliore per comprarli perché hanno dei costi proibitivi e io pensavo di prendere un orologio di secondo polso però al contempo mi domandavo cosa ne pensi te dei dei gran seico che ci sono al quarzo io personalmente penso che mi mette un po' paura l'idea di andare a prendere un orologio che comunque ha un costo alto molto alto e andarlo comunque a prendere al quarzo quindi io penso che non ce la farei ma vorrei sapere cosa ne pensi te comunque andando a considerare il fatto che non è proprio un quarzo è un qualcosa di ben fatto ti lascio scusa se mi sono dilungato e grazie ancora grazie a te grazie a te eh sì il discorso è sempre quello lì cioè ora io non vorrei che tu stessi pensando a quello per trovare un appiglio per dire vabbè siccome costano tanto magari prendo quello al quarzo non lo so nemmeno se costa meno che costa un po' meno mi faccio convincere sento i pareri degli altri sì 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 e lo prendo quando vorresti uno il granseco automatico capito questo è proprio l'approccio sbagliato per un orologio comunque torniamo al focus della domanda cioè cosa anche io sono come te non dispenderei mai tanti soldi per un orologio al quarzo ben fatto che sia come lo è il quarzo di granseco cioè è veramente un calibro al quarzo con i controscatoloni ci hanno messo un sacco di anni per metterlo giù per progettarlo realizzarlo no eh sì però a me l'orologio al quarzo non interessa tantomeno spendere migliaia di euro per un orologio al quarzo non mi interessa addirittura in granseco non mi interessa nemmeno lo spring drive che dentro ha un cristallo di quarzo con attorno tanta meccanica non mi interessa nemmeno quello in granseco io prenderei gli orologi automatici meglio ancora se quelli a 36.000 alternanze che mi dà quel quid in più cioè non è che sono tanti gli orologi automatici meccanici a 36.000 alternanze no ora c'è l'ultracron c'è il zenith e c'è il granseco quindi lì avrebbe proprio veramente una ragione di essere un bel granseco 36.000 alternanze mi piacerebbe poi gli altri due no per me poi ognuno fa come vuole vuole la precisione super precisione spring drive con la tecnologia super quarzo con la tecnologia super prendetevele voi e alle voglia semplice mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi siano piaciuti i video il presentatore il video i video gli orologi l'orologio il contesto e il tempo che c'è fuori se così non fosse ce ne faremo una ragione provvederemo al prossimo video questa è una parola che vi do io vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love